buonasera benvenuti al carnevale di putiniano io sono natale martucci chef proprietario del ristorante il falco peregrino di noci e sono stato chiamato in causa per preparare un piatto che deve avere come filo conduttore il carnevale ma anche la puglia quindi ho pensato a un piatto che si chiama il carnevale di puglia proprio perché ho messo insieme un piatto che rappresenta la puglia nel mondo e cioè le orecchiette e rape fatte con il grossetto le orecchiette farina di decorticata e ho voluto abbinare l'altro prodotto importante della puglia che è la burratina e quindi una mousse di burratina su un'orecchietta e cime di rapa con il protagonista di putiniano che era la farinella che ha dato il nome anche alla maschera insomma di putiniano per il carnevale partiamo con le orecchiette che sono di farina di grossetto con una particolarità che è stato recuperato il germe di grano quindi è un'orecchietta di grossetto al germe di grano molto particolare fatta in casa e direi ottima nella sua forma e nella sua consistenza noi andiamo a scolarle e andiamo a risoltarle con un po di acqua di cottura nell'intengo che è composto da pomodoro con cassè e abbiamo saltato questo pomodoro con cassè con uno spicco di aglio in camicia quindi un profumo di aglio e quindi mantechiamo il tutto e lo andiamo a servire su di una crema di cime di rapa che ci sarà di aiuto perché sarà eletto di questo nostro piatto ci creiamo questa polvere di alici e tramboli di farinella per dare la nota croccante sul piatto mentre con la mousse di burrata gli diamo invece la nota dolce quindi un piatto che va mangiato dal basso verso l'alto assaggiando prima decima di rapa l'orecchietta per sentire la sua consistenza e il suo profumo e poi mousse di burrata e crumble di farinella grazie a tutti